Veneto martoriato dal maltempo situazioni davvero davvero terribili il giudato, mai visto primo piano è andato è arrivata là? 2 metri e tanta di acqua chi sapeva che dovevamo staccare i lampadari? l'ultima volta che aveva visto un tempo simile era il 4 novembre però del 1966 devastazione dell'acqua e del fan l'acqua ha scavato sotto e poi l'edificio in un attimo ha volato giù da mantera non ho mai visto una cosa del genere fino al secondo piano 80 centimetri dentro distrutto tutto, non c'è più letti, non c'è più niente le persone sono state fatte evacuare, si sono spostate non c'è più letto non c'è più letto non c'è più letto non c'è più letto non c'è più letto